Musica Ragazzi eccoci e bentornati sul mio canale Con che giochiamo? Con l'FHR40AVOK Allora, sono approvato ad entrare nella beta E funziona ragazzi, funziona Chiudiamo un po' le voci prima che arriva il casino E funziona e siamo su Terminal Ragazzi, siamo su Terminal Siamo su Terminal Non so perché già è attiva Dove ha? Oh, mamma mia, mi hanno sciolto Mi hanno sciolto O meglio, ci hanno tutti sciolto Con l'FHR40 Ok, muori Ok, due Ok, tre Mamma mia, tripla per l'amante Oh cacchio, c'è il cecco No Cacchio, ha cambiato l'arma i noni Ma Sono stato poco preciso Che figata Siamo su Terminal ragazzi Ma l'avreste mai detto No E dai Ma che è sta mappa Con i cecchini Mi muori iniziare un'altra volta Su Terminal Ok, via 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 Attenti Uno e due Fatto il giro Via Scappa amante Stanno là Attenti che stanno là Tanto c'è sta il cecco Ok Non me Però non vai mentire davanti Ah, questo mi ha fatto più ancora Oh cacchio Sta là, sta là Due, due Preso Tre Ok Ranger Oh E dai Ma questo che cacchio di connessione c'ha Santo Dio Ogni porta Regalo C'è sta ammazzare Sempre quello C'è sta ammazzare Mannaggia Maledetto connessionato Ah Qua c'è un'arma più precisa della mia Eh, infatti il type Cioè Stiamo andando 8-5 8-5 Che non è malaccio Però Non capisco Tipo da qua non si può Ah, da qua si passa Ok Fuori Eh Eh dai Non ci voglio credere Dai, stavo dietro al muro Ok, muori Aspetta che ricarico No Ok E dai, eh Mamma mia Cioè Stanno undemoniati a sta mappa Eh No Alle spalle Me li stavo a fa' tutti Me li stavo a fa' Mi ero cambiato proprio le pistoline apposta Mi ero cambiato le pistoline Cacchio un po' Ok Mori Sta versione Ah Della FHR40 È veramente buona Ho visto Utilizzare veramente E vabbè Questo c'è proprio Buttaggio col burro Questo qua Con un mirino Cioè Impronunciabile Cioè Boh Se lo uso io Faccio schifo Ok Ok Con questo Ci potremmo fa' Anche la nuke Ah Ci stanno a fa' uno dopo l'altro Regà Qua è 31 a 45 Con un 1710 Che non mi sembra Affatto male Che cacchio stanno Tutti Stanno sopra Ci vorrebbe Ah Questo col cecchino è bravo Questo col cecchino è molto bravo Ai 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 Che spettacolo ragazzi Cioè Non me lo sarei mai aspettato De De vedere La beta attiva Già oggi Aia Ucciso Dimmi di sì Muori E sta in altro Tenti regà Ok Dobbia per noi Headshot Cacchia Aspetta E ora stanno la sicuro Buono Ok Ok Perfetto Mamma mia Quadrupla Quadrupla E te pareva E te pareva Che dovevo morire E te pareva 21-13 Bella partita Sta venire L'altro Che lo dico Quando gli fa il giro Ah Il cecco Troppo distante Per me Troppo distante Per me Il cecco Muori Bello St'arma comunque Da vicino È assurda È assurda Muori Ah Troppi 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 anche Per me Troppi anche Per me E anche regà Sono dietro E Mamma mia Mia La gente Sta proprio Mirata Sta Dove è chi è andato E E Mori No Non sei riuscito a sparare Che cacchio Sentite Avevo sentito Oh no Andiamo a fargli il giro Regà Oh no Mamma mia Belli No Vabbè Regà Lanciamo Due e tre Direi Che Siamo messi Settantaseg Mori Ah Mi ha disintegrato Con il fucile Dello ZTL Sono qua Chi ne sapeva Che stava Mamma mia Questo mi disintegrò Ogni bordo 80 a 95 80 a 95 No Ma che ne sapevi È venuta là Boh Vabbè Però è andata Molto bene La partita La prima partita Su Terminal 80 a 100 Ragazzi Non mi aspettavo Che la beta Fosse già disponibile Ci vediamo Al prossimo video Se il video Vi è piaciuto Iscrivetevi Sul mio canale Mettete un bel Mi piace Sul mio video E ci vediamo Ovviamente Con tanti nuovi video Sempre qui Sempre Sul mio Canale E ci vediamo